stiamo parcheggiando davanti allo spot si comunque mi sono svegliato che mi sanguinava il naso e quindi c'ho il tappino tutti pronti siamo tornati per il terzo giorno a fare l'alba siamo sulla punta di ieri dove matto ha toccato un pesce va a vedere metto il bianco uno dietro l'altro siamo super in ritardo perché eravamo distrutti abbiamo fatto surf ieri oggi dobbiamo surfare tutto il giorno ci proviamo ci proviamo ieri sera eravamo a pescare le seppie non avevamo il salaio i locals bastardi non ci aiutavano a sopparle perché bastia di dio avete una rete e la prova a portare fin la però ci proviamo non molliamo si c'è meno vento di ieri secondo me se non puntassi sempre la faccio in mare io però è anche una cosa cura solamente poti poti cominciamo wei franchio come stas franco granchios io direi che è doveroso fare un saluto a fishing sergione ti pensiamo anche qua da tenerife ciao sergio ma te continua a farmi gli scarsi continuo a dire oh 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 come si muove bene sto pesciolino ti prego non staccarti ti prego non staccarti ti prego non staccarti non è un pescione vorrei almeno vederlo ti prego ma scendo anche in punta lì io poi piuttosto ti do la canna se non si slama oh 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 un po di adrenalina finalmente mica si è mangiato lontano si si ma chi se ne frega io mi butto anche a mare hai visto? no non lo vedo no non lo vedo no non lo vedo ci sta andando lui a sinistra non lo vedo nemmeno ecco si 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 ha visto le rocce ha visto le rocce ah oh oh trazie madonna cazzo guarda come mi ha piegato la canna no 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 nedo sto le rocce sono nemesi sempre le palamite sul nemesi senza raffio mi butto a prenderla eccola eccola la faccio stancare un po la faccio stancare e qua e qua si 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 qua sotto madonna si 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 è bella è bella no no contro le rocce no contro le rocce no va bene va bene minchia ce l'ho con un'ancoretta no 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 tenimi la canna tenimi la canna non posso sollevarla di peso devo scendere io aspetta aspetta cazzo si 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 vieni qui ti buchi le mani eh va 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 ma chi cazzo grande cazzo siiii dammi il 5 cazzo oltre 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 che mi butti giù oltre sei lavato ma chi cazzo si grande 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 uuuuuh ok 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 bisogna pescare se ci sono o poi non c'era uno vai 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 è una cosa dritta dritta l'ho lanciato come stava lanciando prima madonnaaa ahhh ancora mi sta piantando l'ancoretta guarda come tirano al cebraio devi farvi da dove dai minchia che sono a pescare subito fai cosi siiiiiiii finalmente cazzo, non potevo tornare la cazzo, non potevo tornare niente io prendo le palamite, io prendo i pesci di ucertola no no, i pantaloni sono, i pantaloni ce li ho corti, questo è il sangue del pesce o mio boh? io la cosa più bella è quando ti devi buttare in mare per vendere il pesce, è la mia parte preferita porco belin, porco belin sono bello, i miei capelli sono a posto, però non mi metti sunset lover dietro vero? ahhhhhhh cazzo holla hollè hollè no, non l'ho visto è stato lì madonna non ci stavo credendo per niente, proprio per niente, sai quando il sole è salito e noi invece andiamo verso la salida, perché la salida sarebbe l'uscita però è anche in salita l'uscita dove andiamo via, no? quindi, dai io dovevo fare il poeta comunque sono ancora in tempo questo era il mio ultimo lancio la corretta ne aveva una in bocca e una nelle branche la corretta è arrugginita, vabbè che io ho passato il tetano, quindi poi è ahhh guarda che è rincazzata cia puttana, non voleva più venire su mangiarci ci mangieramo non me l'aspettavo salvare il cappotto ce l'abbiamo fatta l'uscita da l'incasso va bene, mangiamo pesce finalmente comunque saluto da Tenerife maniche corte poi ciabatte alle 8 del mattino e lei è ha rotto un bicchiere nel bar abbiamo visto il pesce e hanno detto oh no non risponde mai miracolo, porca troia miracolo mi puoi aprire o devo sfondare il portone ah non ci ha lasciato aperto con una pietra pensa a te questo pur di niente pensa a te principiante, vieni, guarda che filo che ho vabbè questo qui il popper io faccio un tentativo con questa un lancio proprio oh ci ha dato ce l'ho mmm non 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 non